Sì, come testimoniano anche i punteggi tra i vari set è stata una partita lunga dove si sono scontrate sicuramente due squadre di livello di pari livello e fino all'ultimo abbiamo avuto modo di giocarcela poi secondo me loro sono state più conclusive nei momenti decisivi forse anche per l'esperienza e si è conclusa per loro, merito loro un applauso Chiedo sulla tua prestazione, un bel ingresso, a dare il fiato al capitano che emozione è stata finalmente giocare con un po' di continuità? Sicuramente è una grande emozione, noi ovviamente cerchiamo di farci trovare pronte che sia per dare un po' di respiro, che sia per cercare di trovare delle soluzioni attorno abbiamo una grande squadra di persone esperte o meno ma ogni giorno in allenamento abbiamo modo di migliorarci insomma di studiare, di cercare di portare a casa quanto più possibile dalle più grandi quindi sono molto contenta oggi se sono riuscita a dare un contributo alla mia squadra Grazie 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 Grazie